Ancora paura fra le strade di Caltanissetta. Gli ultimi due episodi si sono verificati questa mattina. In entrambi i casi due ragazze sono state investite da due auto. Il primo episodio si è verificato poco dopo le 8, tra via Leone XIII e via Guastaferro. La vittima è stata una ragazza di 15 anni che è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. La 15enne, vigile e cosciente, ha riportato qualche contusione da rendere necessario il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Nello stesso momento un'altra ragazza di 16 anni è stata investita da un'auto in via Conte Testa Secca. La 16enne ha subito un trauma alla gamba così anche in questo caso i sanitari del 118 l'hanno trasportata all'ospedale Nisseno. In entrambi i casi sono intervenuti tempestivamente i carabinieri di Caltanissetta che hanno iniziato i rilevi di rito mentre la polizia si è occupata della viabilità. Due episodi quindi in pochi minuti che per fortuna non hanno avuto conseguenze particolarmente gravi ma che evidenziano l'importanza di rispettare i limiti di velocità principalmente nelle strade urbane soprattutto in un momento della giornata in cui le vie cittadine sono più frequentate dai pedoni che si recano a scuola o presso il luogo di lavoro.